Eccoci qui tornati in diretta, cambiamo argomento perché parliamo di feste, festa del San Carlo Oggi ho tutti amici ad aprire questa nuova edizione di Sabato Live, sono molto contento di avere Don Michele Rogante e Giuseppe Lupoli Buongiorno a tutti Bentornati Grazie Allora ci siamo Don Michele Forse sì, forse ci siamo No ci siamo, stop, ci siamo Ci siamo, si festeggia perché il San Carlo ormai è un pezzo per aria È già aperto però diciamo che dobbiamo ancora fare un po' questa festa ufficiale diciamo Quindi abbiamo inventato questa festa di fine estate Esatto Già stamattina non si capiva insomma se l'estate era già finita da un pezzo oppure no Però è festa sia Festa sia Festa sia, oggi e domani qual è il programma? Allora due giorni organizzati in questo senso Pomeriggio di oggi quindi dalle 4 e mezza faremo un po' di attività con i più piccoli C'è un po' un'animazione per i più piccoli e dei giochi per i più grandi C'è una caccia al tesoro e poi gli strumenti che sono già sempre lì al ricreatorio Quindi il tavolo ping pong, il biliardino, cioè giochi che possono comunque essere utilizzati sempre Ci saranno gli stand quindi possibilità di mangiare già nel pomeriggio cena Quindi dalle 7 di sera comunque saremo già operativi E tra l'altro approfitto per ringraziare proprio la contrada di San Martino che mi sta dando una grande mano Quindi io sto pubblicizzando l'evento e loro stanno preparando i sughi Quindi grazie a chi sta lavorando Ognuno il suo ruolo Io non so cucinare sarebbe stato pessimo per me E poi c'è una serata appunto con un musical che vogliamo riproporre Già abbastanza conosciuto però vogliamo riproporlo qui anche al San Carlo Che è la matita di Dio E quindi abbiamo immaginato una serata appunto di musical, di festa, di musica Con il gruppo proprio della parrocchia Santa Lucia, l'oratorio San Zenom Che ci darà una mano per questo evento, per questo musical E qui entra Giuseppe Sì, correggo Poi gliel'hai servita su un piatto d'argento Anche se corregge Allora, la buon maestrino, correggo subito Don Michele Ci presentiamo per la prima volta Debuttiamo con la nostra nuova associazione Abbiamo costituito un'associazione che si chiama Disordine oltre il teatro Quindi debuttiamo in questo senso E siamo felici nuovamente di riproporre la matita di Dio Il musical di Maledresa di Calcutta Uno spettacolo di cui siamo molto orgogliosi E che nel Fermano ha avuto molto successo E stiamo allestendo in questo momento un teatro a cielo aperto lì al San Carlo Quindi ringraziando Dio il tempo ottenuto Ci ha voluto la matita di Dio per fare la festa al San Carlo Ringraziaci Ringrazia Dio, ringrazia chi ti pare E siamo felicissimi perché in questa occasione abbiamo con noi un grande amico Una persona importante credo per fermo E quindi io sono onorato che E poi che ha saputo che venisse oggi in radio Esatto, quindi era proprio segnata questa cosa E quindi Francesco Trasatti sarà il giornalista Un ruolo particolarissimo Un ruolo particolare, un personaggio molto irriverente all'interno di questo spettacolo Che insomma Non sono io Esatto Quale persona migliore Senti Francesco, te sei ospiti per un'altra cosa Però ormai sei qua Siamo Esatto, abbiamo tirato in ballo Quindi Cioè, debuti Vabbè Diciamo che in questa vestita da giornalista Debuti Quali nostre caratteristiche metterai in evidenza? Ma più che altro Si è trattato di riprendere un po' le fila Poi di Emanuele Latini Che era l'interprete e amico anche lui Che ha avuto la parte appunto del giornalista Del giornalista miscrevente Il giornalista paccone Il giornalista Esatto Non vicino diciamo Alla fede No, ma non la vivere sul personale Ma per la categoria Per la categoria Però la categoria Buone speranze Perché poi il giornalista Si converte nel musico Conosce la figura di Mare Terese E si converte E' da vedere E' quello che spero da Michele Possa accadere anche Alla mia persona Ma diciamo che questo è un investito Estremamente professionale Esatto Quindi l'attore Quando interpreta Interpreta Tutti i ruoli Che deve fare Quindi in questo caso Il giornalista miscrevente No, ma era un atto dovuto Guarda Un atto dovuto a loro Un atto dovuto a Don Michele All'amicizia che ci ha legato Per questi anni Al musical che ho visto Al lavoro che hanno portato avanti In modo incomiabile Nell'oratorio E poi al lavoro anche E anche per il San Carlo Perché il San Carlo Rappresenta un simbolo per la città La festa è stata Continuamente rimandata A causa maltempo Quando Si sono trovati spiazzati Perché Emanuele Poi aveva anche altri impegni Di lavoro eccetera Ho detto Ma sì dai vai Divertiamoci Mettiamoci in gioco Tutti insieme Con quello spirito di amicizia Che poi contraddistingue il lavoro Al di là Della professione Scusate la domanda Ma quando è che c'è La vita di Dio stasera? O domani? Stasera Senza parole Ho perso in giro No, no Perché abbiamo detto molte parole Quindi Questa sera Questa sera Alle 21 e 15 Credo 21 e 15 Questa sera Quindi all'aperto All'aperto E voi già avete debuttato All'aperto a Grotta Sorino Bravissimo Ah, vedete La cosa ti ricordo Sempre imparato San Carlo Quindi insomma Anche la cornice Merita, no? Beh, sì Beh, descrivila tu la cornice Don Michele No, la cornice C'è poco da descrivere Nel senso La realtà del parco è bella Abbiamo un attimo Allestito un palco grande Perché in effetti Per fare un bello spettacolo C'è bisogno di molto spazio Quindi troverete un palco Molto bello Vicino alla struttura principale Del San Carlo Quindi c'è una cornice Molto interessante Quello che era un po' Il vecchio campo da calcio Ah, quindi Quello sotto Grande Molto grande Quindi in quel contesto lì Faremo questo musical All'aperto E vedendo ieri sera Per fare le prove generali Verrà molto bene Anche perché è vero Che io sono molto affezionato A questo musical Però vedi già La bellezza del musical Anche se il palco Era spoglio Quindi immaginiamolo Con tutta una serie Di elementi in più Sarà sicuramente Una cosa molto interessante Tra l'altro Ancora più interessante Perché è ingresso gratuito Ah certo Quindi è una festa collettiva Appunto Per celebrare Anche con Con quella che è Un'eccellenza Di eccellenza Non mi piace come parola Perché la usano tutti ormai Però Che è insomma Un aspetto del nostro territorio Di cui andare orgogliosi Giuseppe, Michele, Francesco Adesso New Entry Comunque Insomma Andiamo a tessa alta Sì assolutamente Quindi no Sarà uno spettacolo bello Perché comunque Per chi l'ha visto La qualità è sempre quella È molto alta Non è uno spettacolo Basso Basso Davvero una qualità alta È vero che si sono lanciati Per la prima volta Con questo spettacolo Poi con Francesco è cresciuto Con Francesco c'è un arricchimento in più Quindi è interessante Tra l'altro con due settimane di prove Ha fatto davvero dei passi da gigante Perché comunque È un bravo Ma anche in altezza No io parla pure in altezza Dicevo Sì no sarà Indubbiamente sarà comico Vedere Suor Bettina Che è la principale La protagonista Con la quale Francesco Si troverà a parlare spesso Carla Rossetti Carla Rossetti Un metro e un tappo Esatto Cioè Suor Bettina E il giornalista Sono in effetti Molto diversi Di altezza Sarà anche divertente Vedere questa scena Insomma Bene Parlando invece Proprio del ricreatorio Stancarlo adesso Chiudiamo la parentesi Un attimo festeggiamenti Allora il ricreatorio Di per sé Ha sempre avuto Un valore Un valore importante A livello educativo No? E credo che Quanto mai in questo periodo C'è la consapevolezza Sempre più condivisa Anche da parte dei comuni Delle amministrazioni Soprattutto in quelle realtà Insomma Di dimensioni più grandi Nelle grandi città Del ruolo che ha Una riscoperta Possiamo parlare Del ruolo Dei ricreatori Di questa collaborazione Anche con le istituzioni E affermo È così uguale Sì Indubbiamente C'è una grande riscoperta Di quelli che è L'importanza proprio Degli oratori E del ricreatorio Qui al San Carlo Cioè Il vescovo stesso Ci ha voluto investire Molto per creare Una struttura Forse non pienamente Comoda per i giovani Però indubbiamente Bella e accogliente Che stiamo cercando Di valorizzare al meglio Con delle proposte Abbastanza mirate Quindi comunque Proposte di vicinanza Stare vicino ai giovani Che possano sentirsi a casa In questo posto E la collaborazione Con i comuni Sì c'è sempre stata Si sta cercando Di ricostruirla al meglio Quindi vedere insieme Anche come poter Lavorare in questo posto Quindi In questo momento Ci sono degli operatori Seguiti un po' da me Che comunque sono il direttore In collaborazione Con le istituzioni Quindi comunque Si cerca di venire Proprio incontro A quelle che sono Le esigenze dei giovani Per Dicevo prima Anche perché no Siamo sempre più abituati A spazi di incontro virtuale Quando Di fatto non pensiamo Che stanno scomparendo Quelli di incontro fisico Quindi il fatto di Anche qui festeggiare La riapertura E anche appunto L'investimento In uno spazio importante Di incontro fisico Certo È una bella soddisfazione Ma è proprio quello Che volevamo anche fare Cioè l'idea di questa festa Di fine estate È proprio Nasce dalla voglia Di ritrovarsi insieme Per passare del tempo Quindi un pomeriggio Abbiamo degli spazi all'aperto Ci sono spazi al chiuso Quindi comunque Un pomeriggio insieme Un momento di festa insieme E mangiare anche insieme Perché dicevo prima C'è la possibilità Di avere degli stand Cioè stare insieme Perché altrimenti Si rischia di parlare virtualmente Ma poi non ci si vede Nemmeno mai in faccia Insomma Bene Allora In conclusione Questa La festa parte da oggi pomeriggio Parte da oggi pomeriggio E diciamo un po' all'inizio Si chiude domani In questo senso Che oggi c'è una parte Molto più legata Al ricreatorio E quindi con il musical In questa sera Domani pomeriggio Abbiamo trasferito Al San Carlo Quello che per tre anni O due anni Il terzo anno E quest'anno Il palio dei bambini Che si faceva Nella parrocchia di Santa Lucia Quindi lì al Monterone In questo senso Si farà lì Quindi tutti i bambini Delle dieci contrade Della cavalcata Sono stati invitati A sfidarsi Per quello che è Il palio dei bambini Che poi Giuseppe Che curerà anche qui Con i giochi L'animazione Se vuoi aggiungere qualcosa Professorino Se devi correggere Sì Diciamo È il terzo anno Che la parrocchia Santa Lucia L'oratorio San Zenome Si prende in carica L'organizzazione Di questo evento Di questo particolare evento Che avvicina Diciamo Sensibilizza I bambini All'aspetto della comunità E quindi Alle contrade Quindi diciamo Un momento Bella vita cittadina Anche per la vita della città Per la vita di fermo E l'oratorio San Zenome Organizza appunto Questo palio E quindi Abbiamo organizzato diversi giochi Insomma ci sarà da fare Quindi domani pomeriggio Tutti i bambini sono invitati E le contrade Tireranno fuori di nuovo Dalla propria Valigia I propri sentimenti Della contrada Della contrada Ioli E ci è piaciuto farlo Anche al San Carlo Perché torna ad essere Questo posto centrale D'incontro Certo Come lo è stato Per esempio Per la mia generazione Io là di danni Ne ho fatti tanti Allora Sì Ero pure un lupetto Uno scout Per quel poco Che è durato Però lo ero Allora Questa sera Sei pronto? Te devi andare Riposati adesso Se no stasera come fate? Non c'è riposo Non c'è riposo Stava allestendo il palco Quindi mi auguro Che si riposerà Prima dello spettacolo Di stasera Eh beh sì Francesco è una garanzia Quindi state tranquilli Ma lui è forte C'è mille energie Figurati No la voglia c'è tanta Più che altro Lo stimolo sinceramente Me lo danno i ragazzi I ragazzi sono belli È bello il fatto Che comunque Hanno voglia di fare Per noi comunque Riproporlo È un momento Anche per fare memoria Di quello che abbiamo vissuto E delle emozioni forti Anche perché in parallelo State lavorando per altro Stiamo preparando Anche un altro spettacolo Che non posso dire Che stasera Ma a sorpresa Lanceremo Ah A sorpresa Ha detto in radio Però è a sorpresa Vabbè Lanceremo E quindi Vi diremo meglio Quindi dovete venire Così capite quello che faremo Bene Allora vi ringrazio Adesso Vi saluto E rimango con Francesco Per affrontare invece Un altro Un altro evento Un altro aspetto Grazie a te Grazie a te Grazie a te Grazie a Michele In bocca al lupo Per questa sera Per la matita di Dio Ingresso gratuito Ricreatorio San Carlo 21 e 15 Andate prima Così Prendete posti E poi domani Appunto Questo pallo dei bambini Che un po' Ritorna In quella che è Anzi Trova quella che è La sua casa naturale La sua sede naturale Grazie ancora Grazie a te Bocca al lupo a Francesco Crepi In diretta Dallo studio blu Di Radiofermo 1 Sabato Live I personaggi del momento Tra cultura Attualità E politica E politica Grazie a tutti Ciao a tutti Grazie a tutti